Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi ciao 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 comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente detto questo qui sotto in descrizione traverete il link sul loro sito le ho ordinato e vi arrivo a casa e niente ciao a tutti belli a